Da poco Papa Francesco è rientrato da un importante viaggio negli Emirati Arabi Uniti di cui la stampa internazionale ha molto parlato, anche perché nel corso di quel viaggio è stata firmata una dichiarazione di grande rilevanza fra la Chiesa Cattolica e la Università Musulmana al-Assar dell'Egitto. Era un viaggio in mezzo alla cultura, alla religione, alla fede islamica. Adesso fra poco il Papa farà un altro abbastanza simile, se non identico, nel senso che andando in Marocco alla fine di questo mese per 48 ore incontrerà ancora una volta la cultura, la civiltà e gli esponenti della religione musulmana e lo farà a 34 anni della storica visita di Giovanni Paolo II. E perché lo fa questo viaggio il Papa? Perché vuole sottolineare e insistere con la maggior evidenza possibile che è importante, fondamentale per il futuro dell'umanità il dialogo interreligioso fra la Chiesa Cattolica e l'Islam.